Allora, intanto vi presento l'onorevole Cristiano Romaniello, Movimento 5 Stelle che ci ha raggiunto. Buon pomeriggio. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, saprà, onorevole, che come sempre Conte ha ribadito questa cosa, ovvero che la decisione a proposito del caso Gregoretti l'aveva presa Salvini e invece Salvini, che continua a dire, non è possibile. È stata una decisione collegiale così come fu nel caso della Diciotti e sa anche che voi nel Movimento 5 Stelle siete stati molto presi di mira dalla Lega, lo siete ancora attualmente, proprio perché sulla Diciotti avete votato in un modo e sulla Gregoretti in un altro. Al di là del fatto che sulla Gregoretti non abbiamo votato, di fatto, però la questione era profondamente diversa. Poi tra l'altro faccio anche un accenno al lavoro di Giunta. Io resto convinto e so che il lavoro di Giunta dovrebbe essere un lavoro tecnico. Quindi se il leader di un partito, come Salvini ha fatto, dice ai propri senatori, votate per farmi andare a processo, i membri stessi di quella Giunta dovrebbero dire, io qua sto facendo un lavoro tecnico, non devo prendere una decisione politica, devo guardare quanto il tuo comportamento è rientrato in alcuni codici e poi dare una valutazione che è paragiuridica, di fatto, quella della Giunta. Questo secondo me denota anche una grossa mancanza di senso istituzionale dei senatori della Lega, che invece hanno dato retta a un capo politico che però stava chiedendo di esprimere una valutazione politica, che era quella di farlo andare a processo. Peraltro in un periodo utile per Salvini, in modo da passare come il perseguitato dalla magistratura, quando lui stesso invece va a processo. La differenza tra caso Gregoretti e caso Diciotti. Io me li ricordo i giorni del caso Gregoretti, così come ricordo i giorni della Diciotti. Sul caso Gregoretti Salvini prese una decisione molto personale, perché di fatto noi eravamo molto felici del fatto che l'Europa avesse deciso i vari paesi che compongono l'Unione Europea di prendersi carico dei migranti che stavano di fatto arrivando con la Gregoretti. Salvini disse no, li lasciamo ancora un po' lì, perché a me può far comodo così. In quel caso io ricordo le proteste, sia da parte nostra che dal governo, che dicevano che adesso non è più caso. Proteste? Levate di scudi non me ne ricordo, però magari sbaglio io, non so, magari mi faccio aiutare anche dai miei colleghi. Era una posizione dialogante, era una posizione dialogante. Vi ricordate? No, scusi, perché questo è importante. Non ce ne ricordiamo, non ce ne ricordiamo. Per essere onesti al 100%, su tutto, onorevole. Non ce ne ricordiamo nessuna. Ricordate dei casi in cui addirittura anche Conte si era espresso anche con la Diciotti, quando poi Salvini cercò di delegittimare la voce della terza carica dello Stato, quindi questo è il livello, un po' il senso istituzionale di Salvini. Comunque è stato profondamente diverso perché noi abbiamo detto, visto che sono già ricollocati, lasciali sbarcare. Mi ricordo perfettamente due ministri del governo. Un momento, sì, Lorenzo. Toninelli e Di Maio erano intervenuti dicendo che comunque doveva essere l'Europa a prendersi in carico il problema che è stata la posizione di 5 Stelle fino all'ultimo. Dopodiché è anche verissimo che la questione era stata ribattuta su tutti i giornali, su tutti i TG, anche. In conseguenza è impossibile dire che il governo non sapessi che questi stessi. Quando Toninelli e Di Maio si sono presi la responsabilità era il caso di Ciotti, eh? No, se posso dire una cosa. Ai tempi in cui si prese la responsabilità della scelta collegiale era la di Ciotti. Alla comando la rilettura dei virgolettati ritrofettorinali dell'epoca. Se posso ricordare una cosa, perché poi c'è una verità politica che può essere manipolata come vogliamo, ma ce n'è anche una, diciamo, che sta agli atti giudiziali. Sono gli stessi magistrati di Catania che scrivono che i due casi, Gregoretti e Diciotti, sono quasi perfettamente sovrapponibili nelle dinamiche con cui si sono sviluppati i fatti. C'è un problema che riguarda l'eventuale corresponsabilità del Presidente del Consiglio e degli altri ministri. Il punto è che all'epoca è vero che non ci fu, diciamo, non risulta al momento la firma del Presidente del Consiglio né degli altri due ministri, in particolare Trenta e Toninelli sulla Gregoretti, ma è altrettanto vero che non risulta che ci sia stata, diciamo, un'opposizione così forte. Gli atti al Tribunale in questo senso non sono arrivati né in una direzione né nell'altra. E questo da un punto di vista giudiziario è un dettaglio che non è secondario e che poi andrà, appunto, affrontato nel processo. Il processo servirà a questo, a capire se qualcuno ha nascosto qualcosa. C'erano state, certo, le perplessità del Movimento 5 Stelle, non solo rispetto a quello che stava accadendo all'epoca, però stavano il governo, quindi avevano anche gli strumenti e gli uomini per poter fermare questa macchina, che per i migranti è stata una macchina infernale. Questo lo dicono non solo i magistrati, ma lo dicono gli investigatori che stavano lì, lo dicono i medici. Semmai il problema è domandarsi come mai all'epoca del caso Diciotti si preferì, come dire, offrire un salvacondotto a Salvini, probabilmente per salvare il governo a quell'epoca, però i casi erano sovrapponibili. Sì, no, la faccio breve. Quattro giorni erano assistiti, curati, potevano mangiare. Salvini ha avuto quell'atteggiamento perché se non lo avesse fatto l'Europa avrebbe continuato a prenderci in giro. Grazie a quell'atteggiamento di Salvini, dopo quattro giorni, i paesi europei diedero la loro disponibilità. Lo ricordo, lo ribadisco, è un atteggiamento che hanno avuto anche Minniti prima e dopo il ministro Lamorgese, che rinviò perché temeva il giudizio del popolo, temeva il giudizio dei cittadini. Non c'è stato nessun sequestro, lo stabiliranno i giudici, ma a me interessa anche il giudizio dei cittadini italiani, perché in democrazia la politica si deve assumere le proprie responsabilità. Lo ribadisco, il presidente del Consiglio promuove e coordina l'attività dei ministri. Se avesse pensato che la condotta del ministro Salvini, che per la prima volta aveva consentito all'Italia di stare a schiena dritta in Europa, era ritenuta illegittima dal Movimento 5 Stelle, il presidente del Consiglio, stando all'articolo 95 della Costituzione, aveva il potere di fermarlo e non lo ha fatto. Sì, Romaniello. Coordina non significa demansiona. È responsabile, dirige, lo dice l'articolo 95 della Costituzione, dirige l'attività dei ministri. Sì, ma non ha in mano lui la struttura del ministero. Tu lo sai che non ha in mano la struttura del ministero dell'interno. Se avesse voluto avrebbe potuto dirgli, tu ti fermi e ti caccio via da ministro. Infatti è capitato che Conte disponesse lo sbarco. Non nel caso Gregoretti, perché erano quattro giorni, e in quei quattro giorni però si è dibattuto e si è detto, guarda che riprende l'Europa. Poi Salvini cosa diceva? Possono esserci i terroristi. L'ha sempre detto. Poi ogni tanto diceva, vabbè, ce li teniamo sul suolo italiano, tanto li tengono nelle sedi del Vaticano, quindi anche se ci sono dei terroristi l'importante è che però il costo non ricalla su di noi. Quindi di fatto non è che Salvini abbia fatto il salvatore della patria, si è sempre un po' comportato come è convenuto a lui. Allora, ci sarà un motivo se dal 17% siamo passati al 32%. Avevamo promesso in campagna elettorale, 400 l'abbiamo fatta, avevamo promesso di fermare l'immigrazione senza regole, lo abbiamo fatto, i numeri parlano ancora oggi, i numeri di cui si fa bella l'attuale maggioranza, ma si riferiscono agli sparti dei mesi in cui Salvini era ministro dell'interno. Un andazzo... Si, ma non fa tutto il ministro dell'interno. Noi avevamo tre ministeri che intervenivano sull'immigrazione. Voi ne avevate uno, e quindi... Certo, ma io ricordo... Vedi però come ci tieni a mettere la tua bandierina. Ma io ricordo l'accordo del ministro Toninelli con il 99% di quello che Matteo Salvini faceva. E per rispondere al giornalista... Allora, intanto, Matteo Salvini, che cosa dice? Ne parleremo in tribunale. Salvini ha detto che chiama in giudizio Conte e Di Maio. Lo ha detto ieri che si andrà a processo... Sentite che cosa dice intanto Salvini, ne parleremo in tribunale, così il leader della Lega al termine del suo comizio commenta con l'ansa le parole del premier Conte, secondo cui la decisione sul mancato sbarco dei migranti della Gregoretti è stata solo dello stesso Salvini. Quindi evidentemente vuole fare qualcosa in questo senso, vuole fare qualche azione, promuovere un'azione nei confronti di Conte, vuole portarlo in tribunale Salvini. Questo fa in campagna elettorale. A proposito di campagna elettorale, ditemi un po' voi che cosa succederà. Parto intanto dall'onore Romaniello. Cosa succede il 27 gennaio, il giorno dopo le elezioni? Ammettiamo che vinca la Lega. Che succederà, onorevole? Allora, io adesso non ho una sfera di cristallo, quindi non ho idea se la Lega sia in condizioni di vincere. I sondaggi non ci sono, perché ci sono le due settimane di silenzio. Sondaggi, quindi non ne ho idea. Se dovesse vincere la Lega, a livello di governo, chiaramente, o di maggioranza parlamentare, non dovrebbe succedere nulla. Perché sono slegate, perché, peraltro, se facciamo... Proviamo a fare un discorso il più logico possibile. Le forze parlamentari che compongono la maggioranza non si sono presentate insieme in Emilia. Quindi in che modo dovrebbe esserci qualcosa di completamente correlato? Come? Chissà se ve ne pentirete, punto di domanda, perché poi c'è appunto chi ritiene che... Dovesse vincere la Borgonzoni se ne pentiranno solo gli emiliani. Così come nelle regioni che governa la Lega si va in esercizio provvisorio, oppure tagliano i fondi ai disabili, poi vanno in giro a dire delle cose che apriranno gli ospedali anche nei weekend, come se adesso cacciassero i malati dagli ospedali. Se ne renderanno conto gli emiliani si decideranno di votare la Lega. Che succede, secondo voi, dopo le regionali? Secondo me pronostici è meglio non farne su chi vince e chi vince, però una cosa si può già dire, comunque la Lega sta riuscendo a contendere al PD il supportino, di conseguenza già comunque vada un successo per la Lega, è pronosticabile in questo senso. Parlavano l'onorevole dei 5 Stelle, l'altro dato è che comunque loro sono diventati marginali in questa corsa, mentre un tempo, fino a pochi anni fa non era così, mentre adesso tutti i sondaggi, quelli pubblicabili, diciamo, fino a quando è stato possibile, li danno come terza parte, molto, molto, molto lontana da coalizioni centrosinistra e centrodestra. Quindi comunque per loro qualcosa da discutere dopo il voto ci sarà. Poi vabbè, se dovesse vincere il centrodestra, comunque ovviamente anche il governo potrebbe avere dei contraccolpi seri, non credo che cada, credo che andranno avanti comunque, però lo terremoto. Posso farlo io un pronostico? Sì, un momento tra un attimo, prima devo far parlare Nello. Penso che ci sia, diciamo, stata una forte drammatizzazione di questo voto in Emilia-Romagna e le cose vanno viste globalmente, c'è anche la Calabria dove ci sono una serie di problemi seri che riguardano anche il centrosinistra, oltre che naturalmente la Lega che non sempre ha speso diciamo esponenti locali di ragguardevole spessore, da un punto di vista anche giudiziario se vogliamo. Quindi bisognerà capire che cosa accadrà dopo, anche dal punto di vista poi della scelta del personale politico per il futuro, perché c'è una grave crisi anche in questo senso. Noi sentiamo ormai proclami, tweet, non si capisce come nel caso Gregoretti una cosa che è perfino banale ricordare, che qualsiasi atto di un ministro ha valore dal momento in cui è scritto, deve avere un percorso che è stabilito dalla legge, non basta un tweet o un proclama, in mancanza di quello non esistono i porti chiusi, non esiste l'apertura di un porto per una nave e la chiusura per un altro, c'è grande confusione, dentro tutto questo purtroppo a pagarne ancora una volta le conseguenze sono i più deboli, gli italiani da una parte ma anche i migranti dall'altro. Io prima ascoltavo, devo dire, anche ormai indignato le parole di Sasso, perché dice abbiamo fermato l'immigrazione, bisogna domandarsi a prezzo di che cosa abbiamo fermato l'immigrazione, quanto ci è costato economicamente e anche in termini etici. Qualche giorno fa a venire il mio collega Paolo Lambruschi ha pubblicato le foto di migranti appesi a testa in giù, a ganci da macellaio, nei centri governativi libici dove vengono torturati, gli viene storto il denaro e queste sono persone che probabilmente non arriveranno mai in Italia, perché noi paghiamo perché restino lì. Allora io chiedo all'onorevole se lui è contento del modo con cui sono stati fermati questi trafficanti di uomini, ammesso che siano stati fermati, visto che adesso, come abbiamo dimostrato tante volte, indossano anche una divisa in Libia stipendiata indirettamente anche da noi. Sasso. Allora io mi indigno invece per l'ipocrisia di chi pensa che in Italia possono arrivare tutti i disperati, bisognosi e profughi. Ma nessuno dice questo, lei deve smetterla di... No, però non mi deve far parlare, abbia pazienza. No, ma lei non può raccontare bugie, ma tutti che cosa? Mi faccio parlare, è la sua opinione che io sto raccontando la mia. Non sa neanche quanti migranti sono arrivati. Posso continuare il mio concetto? Allora tutti, mi dica tutti che cosa... No, lei mi deve dire tutti. Mi spiega democraticamente cosa intende tutti. Lei mi ha fatto una domanda e si dà la risposta. E ne faccio un altro. Tutti, cosa vuol dire tutti? Guardi che chi ci vede da cassa capisce il suo imbarazzo nel tentare di impedirmi di rispondere. No, no, è lei che è imbarazzato perché non sa dirmi tutti numericamente che cosa vuol dire. Posso rispondere? Appena ho iniziato a parlare mi ha interrotto. Tutti, tutti quanti. Prego. Grazie, grazie, grazie. Stavo cercando di dire che sono anni che ci raccontate con il vostro buonismo che non serve a niente perché di oggi la notizia che le organizzazioni umanitarie hanno trovato tra le province di Matera e Taranto, precisamente a metà ponto, un vero e proprio lager. Perché o vi rendete conto che il modello di immigrazione è quello di pratica di mare, con i corridoi umanitari, con gli immigrati, con chi ha veramente diritto, con chi è un vero profugo, con chi veramente fugge da una guerra, non con chi la guerra ce la porta a casa. E sono migliaia, decine di migliaia gli episodi di assassini, stupri, un numero, un numero per favore. Di tutto e di più, di tutto e di più. Un numero. Quindi se permette, se qualcuno vuole entrare in casa mia in maniera illegale, io ho il diritto di chiedergli chi sei e cosa vuoi fare. Perché ripeto, con questa notizia ci avete fatto entrare in Italia centinaia di migliaia di immigrati, molti dei quali persone per bene. C'è solo un problema, non ce la fa l'Italia ad accogliere mezza Africa. Ve ne rendete conto o no. Mi rendo conto di quanto lei sia ignorante, onorevole, perché non sa darmi un numero. Mezza Africa, numericamente, cosa vuol dire? Sa dirmi numericamente. Non mi faccia i tweet, quelli siamo già abituati. Ma riesce a darmi un numero? Un numero riesce a darlo, per favore, non ci riesce. Anche voi, in certa stampa, come il partito delle ZTL, e ve ne accorgerete il 26 gennaio, potete farci tutte le lezioncine che volete. Guardi, io non faccio campagna elettorale, le ho solo chiesto un numero, ma lei non riesce a darmelo. La gente ci dà ragione, e non solo su quello, e non solo quelli che hanno votato per Lega. Comunque lei è contento di pagare i torturatori libici? E' perché anche gente di sinistra vota per noi, giù la maschera. Non vuole rispondere, le ho chiesto, lei è contento di pagare i torturatori libici? Seconda domanda, quando dice Mezza Africa, un numero riesce a fornirlo, per favore? Senta, guardi, i numeri sono quelli del dominale e sono aumentate le morti in mare, perché più sbarchi ci sono, più ci sono morti in mare. Più sbarchi ci sono, più aumentano le morti in mare. Se vuoi evitare alla Lega e all'Italia responsabilità legate alla Libia, guardi, mi viene veramente da aprire le braccia, io più di questo non so che fare. Vado a chiedere ai francesi se hanno qualche responsabilità con quello che è successo in Libia. Beh, guardi, non lo dico a me, io non faccio politica, faccio il giornalista, le abbiamo denunciati molte volte, le ho chiesto un numero che non riesce a darmi, non riesce a dirmi se lei sta bene che pagando con i nostri soldi teniamo i torturatori in Libia, benissimo, mi accontento del fatto che lei non è in grado di rispondere. Guardi, le do una notizia, al governo non c'è la Lega. Allora, se posso dire una cosa anch'io, non sono aumentate le morti in mare, sono aumentati i rimpatri, che è una cosa che non è mai riuscito a fare Salvini, perché Salvini aveva bisogno, aveva anche bisogno di non rimpatriarli per lasciarli un po' in giro e farci propaganda. Poi c'è da dire un'altra cosa, c'è una piccola verità su quello che stava dicendo prima il collega Sasso, e cioè che tanti morti muoiono nel deserto in Africa, cioè quando le tratte partono dai paesi di origine di queste persone vengono prelevate, alcune con la forza, altre con l'inganno, perché gli si dice andate in Italia, che in Italia troverete una bella vita, si fanno vedere anche immagini di ragazze che erano partite da quegli stessi paesi e che stanno bene, poi quando queste altre ragazze arrivano qui scoprono che invece sono le prostituzioni. Se poi hai un governo che gli ha coni la braccia aperte, l'opera è completa. Infatti guarda che gli sbarchi sono diminuiti, i rimpatri sono aumentati, peraltro tutti quei reati che erencava prima, aspetta un attimo, adesso tocca a me, 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 allora tutti i reati di cui prima stava facendo l'elenco Sasso, erano reati che sono esplosi durante il ministero di Salvini, doveva essere Salvini a contrastarli e non è riuscito a farlo, quindi è un incapace come sono incapaci tutti quegli amministratori regionali della Lega che fanno andare alle proprie regioni in esercizio provvisorio dopo anni di amministrazione e quindi questi sono i risultati di cui parlare. Poi vogliamo parlare del caso Gregoretti perché almeno si smette di parlare di questioni emiliane o di questioni calabrese, facciamole pure, Salvini piuttosto va in galera piuttosto che perdere delle regioni, gli porteremo le arance. Questo però non è carino, questo non è giusto, questo non è bello ma non è giusto perché la logica manettaria del Movimento 5 Stelle. Ma se si è fatto mandare il processo da voi, ma cosa stai dicendo? Il processo poi vediamo se si farà e vediamo cosa succederà. Perché una volta per tutte vogliamo capire se difendere i confini in Italia è un reato e i rimpatri sono aumentati sì ma di poche decine, quindi parliamo di cifre tutto sommato ridiche. Gli sbarchi sono di nuovo aumentati, questi sono dati inequivocabili, non si può dire di no. Voi lo mandate al processo. E' verissimo anche che tantissimi di quelli che affrontano il viaggio in mare effettivamente poi muoiono in mare e questo è sicuramente un problema, l'unica cosa seria da fare è bloccare completamente il flusso, chiudere in Libia i campi di prigionia e cercare dei canali legali per assistere le persone che hanno veramente diritto all'asilo politico. Perché quelli che arrivano oggi in Italia sono in grandissima parte clandestini e per questi non ci può essere un traffico diretto dall'Africa all'Italia. Vanno assistito chi ha veramente bisogno. Nello, aiutami a capire una cosa. Che cosa sta succedendo? Abbiamo pochi minuti ma con la tua capacità di sintesi sono convinta che ce la faremo. A capire che cosa sta succedendo adesso, come il governo attuale e quindi il ministro Lamorgese sta affrontando la questione dell'immigrazione e cosa dicono i numeri adesso? I numeri ci dicono che in questo momento nei campi libici ci sono circa 3.000 migranti. Non mi sembra che sia una cifra che possa preoccupare qualsiasi governo degno di questo nome. Non si sta facendo nulla per chiudere questi campi, sono d'accordo con Lorenzo. Vanno chiusi, lo chiedono le Nazioni Unite, vanno aperti i canali umanitari di evacuazione immediatamente, andrebbero arrestati i trafficanti di uomini, dovremmo anche smetterli di pagarli con la scusa che si tratta di polizie, milizie o cosiddetta guardia costiera libica. C'è un conflitto in Libia, ha aumentato il numero di libici che scappano. Perché è vero che tra le partenze, è stato notato in diversi porti italiani, arrivano famiglie di libici che scappano dal conflitto. Allora bisogna intervenire seriamente lì, cosa che l'Europa non riesce a fare, per colpa anche di divisioni molto forti che ci sono. La Francia ha addirittura bloccato un documento che avrebbe condannato il generale Haftar per la chiusura dei giacimenti petroliferi. E intanto questa gente è in balia veramente di nessuno. In balia di nessuno. C'è costato 150 milioni di euro negli ultimi tre anni. Posso darle una notizia? Una notizia, io le do sempre delle notizie, l'altra volta le diedi di quello di un parlamentare. Dei circa 450 emigrati sbarcati a Taranto, sbarchi ai quali ho assistito personalmente nel porto di Taranto, sa quanti ne sono stati redistribuiti nei paesi europei dopo quattro mesi? Zero. Sa dove sono? Al Cara di Bari. E sa cosa ho trovato quando sono andato a fare una visita al Cara di Bari? La polizia francese e la polizia tedesca che erano lì per fare le audizioni. Il fatto che l'Europa, diciamo, si volti sempre da l'altra parte e continua a farlo. E scegliersi i migliori. Questo è l'accordo di malta. Sebbene, diciamo, negli ultimi mesi ci sia stata maggiore collaborazione, però tanto mi pare che l'atteggiamento dell'Europa sia... Purtroppo il governo italiano e la Lega non hanno mai partecipato alle sedute in sede di Parlamento europeo per riformare il regolamento di Dublino. Sì, è sempre colpa della Lega. E sarebbe stato invece molto utile parlarne. Allora, va bene, io devo più ringraziarvi. Sì, no, non ricominciate perché sennò non chiediamo più e invece incombe la pubblicità. E quindi vi saluto e vi ringrazio. Grazie all'onorevole Rossano Sasso della Lega e a presto. Grazie all'onorevole Cristian Romaniello del Movimento 5 Stelle. A Lorenzo Mottula di Libero.